La famiglia è stato il tema principe del raduno dell'azione cattolica della diocesi di Agrigento che si è svolto ieri a Favara presso la Chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo. Lo slogan della manifestazione è stato E' tempo di festa incontro. Scopo di questa iniziativa è quello di promuovere la comunione diocesana, la socializzazione, l'amicizia ed il confronto tra i giovani e gli adulti. Diverse centinaia di partecipanti, provenienti da ogni parte della provincia di Agrigento, che nonostante maltempo non sono voluti mancare all'appuntamento. Il festa incontro di Favara è stato organizzato dalla sezione ACR della parrocchia San Giuseppe Artigiano. Il gruppo dell'azione cattolica della parrocchia San Giuseppe Artigiano ha fortemente voluto l'iniziativa di oggi. Sì, senz'altro. Il festa incontro è un raduno di tutti i soci di azione cattolica itinerante. Ogni anno cambia città. Quest'anno è toccato a Favara ospitare mille giovani, ragazzi e adulti per fare feste insieme, per gioire insieme nella fraternità e nella solidarietà. Don Carmelo, quest'anno il festa incontro è stato ospitato dalla vostra parrocchia? Sì, il festa incontro di Gesano dell'azione cattolica, che vede ogni anno bambini, giovani e adulti insieme, da tutta la Diocesi, quest'anno ha scelto Favara e in particolare questa parrocchia. Per noi è un motivo di gioia non solo per poter accogliere tante persone, ma anche per poter conoscere questa associazione che tanto fa e ha fatto e continuerà a fare per il bene della Chiesa. Ad accogliere giovani e meno giovani ieri era presente anche l'amministrazione comunale, con al capo il sindaco Domenico Russello, presenti il vice sindaco Montaperto e gli assessori Zambito, Pitruzzella e Vella. A me piace poter chiudere questa giornata che sicuramente lascerà il ricordo nei nostri cuori proprio con le parole di Don Franco, cioè che il mondo può migliorare, le cose possono cambiare, non è vero che non è possibile cambiare, che tutto deve necessariamente andare male o deve andare sempre per come è andato. Possiamo guardare con più fiducia e speranza al futuro, però per fare questo occorre non cose speciali, ma basta che ciascuno di noi adempia il proprio compito, faccia la propria parte e allora il mondo può cambiare. L'Azione Cattolica ha mostrato i suoi primi passi in Italia nel lontano 1867, quando Mario Fani e Giovanni Acquaderni fondarono la Società della Gioventù Cattolica, che successivamente nel 1905 diventò Azione Cattolica. Diversi momenti di preghiera che nel corso della giornata hanno coinvolto i partecipanti, ma non sono mancati gli intermezzi ludici. Infatti gli animatori dell'Azione Cattolica hanno organizzato diversi giochi che tramite canti e balli hanno coinvolto i più piccoli e non solo. Il raduno diocesano dell'ACR è stato voluto dagli organizzatori nella città di Favara. Scelta questa è che si è consolidata in seguito al tragico crollo che è avvenuto lo scorso 23 gennaio. Perché avete scelto Favara? Abbiamo scelto Favara in tempi non sospetti, prima ancora che capitasse ciò che è capitato e di cui siamo a conoscenza. L'avevamo scelto perché Favara è una città molto ricca dal punto di vista umano, è molto problematica, perché c'è un divario, come del resto in tutte le altre parti, tra ciò che è un umanissimo a livello distinto, un'apertura e poi una fede che si concretizza nelle azioni. Poi invece questa scelta è diventata profetica per quello che è accaduto. Allora ci siamo sentiti ancora più motivati a venire per essere solidari a questo Paese. Nel pomeriggio Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Agrigento Monsignor Montenegro. Oggi nel Vangelo Gesù chiedeva a Pietro se lo amasse, oggi l'azione è cattolica, che cosa risponda? Ma credo che la presenza dell'azione cattolica è già una risposta. Gesù ha usato due volte il termine amore, una volta il termine mi vuoi bene. Allora credo che l'invito di Gesù è non accontentarsi mai del bene che gli vogliamo, ma di aumentare sempre più. È l'azione cattolica una parte di questa Chiesa che è impegnata ad agire e a fare bene. E sono quei piccoli grandi semi di speranza che il Signore mette in questa nostra terra. A garantire un buon svolgimento della manifestazione ci hanno pensato i volontari della Compraternita Misericordia e i volontari dell'Associazione dei Grifoni. Oggi siamo qua in questa manifestazione cattolica dove svolgiamo questo servizio d'ambulanza di primo soccorso qui in questa manifestazione dove siamo partecipi in otto unità. Abbiamo fatto pochi interventi fortunatamente, quindi siamo soddisfatti di come la manifestazione si è svolta. Diamo una mano operativa affinché si svolga nel migliore dei mondi la manifestazione. Sempre attivi, oggi abbiamo ricevuto quasi mille persone dislocate in ogni posto di Favara. Quanti sono i volontari impiegati oggi? Oggi 35 volontari dislocati sul territorio di Favara, sia con le frequenze radio che con il supporto sociosanitario e logistico. A concludere la bella giornata, fotoricordo con il pastore della Chiesa Grigendina.